E' in corso a Cadanzaro una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato che sta eseguendo nove provvedimenti di fermo di indiziato di delitto a carico di membri attivi della Cosca Giampa, operante nella mezzia terme. I destinatari della misura restrittiva sono ritenuti colpevoli di associazioni di stampa o mafioso e di numerose estorsioni a carico di esercizi commerciali ed imprenditori operanti alla mezzia terme, nonché di atti intimidatori consistiti nel posizionamento di bottiglie incendiarie nei pressi delle attività commerciali e di danneggiamenti con l'utilizzo di ordigni esplosivi. Agli indagati sono inoltre contestati numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività investigative hanno permesso di accertare che taluni soggetti appartenenti alla Cosca Giampa, tornati in libertà dopo l'espiazione delle condanne riportate a seguito delle operazioni di Polizia Medusa e Perseo o all'atto dell'ammissione a misure cautelari e alternative alla detenzione, si riattivavano con il fine di reimporre la loro influenza criminale nelle zone storicamente controllate dalla Cosca di riferimento. I particolari dell'operazione saranno resi noti questa mattina durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il complesso polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro alla quale parteciperà il procuratore capo, dottor Nicolo Gratteri.